Partiamo dalla nostra bio e cerchiamo di essere molto essenziali, cioè io ho visto ragazze interi training, interi corsi dedicati alla bio di Instagram, ma chi ha tempo di dedicare 6 ore di training alla bio di Instagram? Cioè cerchiamo di essere abbastanza, come dire, anche oneste con noi stesse. Io, tra l'altro, per carità, nulla in contrario con il fatto di diventare super esperte di un micro dettaglio di questa piattaforma, ma non è assolutamente necessario per trasformarla in qualcosa che ci generi delle entrate. La cosa cruciale, l'elemento cruciale, è far capire a chi effettivamente ci intercetta, inciampa letteralmente, perché su Instagram tu inciampi in un profilo, non è che, oddio, lo potresti andare a cercare per il passaparola, ma nella maggior parte dei casi ci inciampi sopra. Fammi capire perché dovrei seguirti. In 7 secondi, qui ho fatto una media perché le scuole di pensiero si sprecano, c'è chi parla di 13, c'è chi parla di 20, c'è chi parla di 3, c'è chi parla di 4. Ho detto, senti, tagliamo la testa al toro, se in 7 secondi riusciamo a far capire a chi effettivamente ci ha intercettato che ha senso continuare a seguirci, allora abbiamo fatto bingo. E vi ho scorporato gli elementi che a mio avviso dovrebbero essere presenti in una bio vincente. Sia chiara una cosa, vi farò vedere degli esempi in cui non sono presenti tutti quanti questi elementi, quindi non deve diventare una prigione, assolutamente. Questa intera Beats Live deve diventare un salvagente nel momento in cui siamo un po' così a corto di idee, non sappiamo cosa condividere, ci stiamo perdendo una vita. Ma ben venga anche il fatto di sperimentare da noi e capire effettivamente che cosa funziona meglio per noi e per la nostra audience. Se riusciamo a metterceli tutti, fantastico. Va da sé che la bio di Instagram ha un numero di carattere limitato, che per carità a volte cambia nel tempo, però sempre limitato è. Quindi dobbiamo giocarcela con quello che possiamo. La cosa importante è che la nostra bio non dovrebbe intercettare chiunque, dovrebbe intercettare le persone giuste, ossia i nostri potenziali clienti. E quindi a me piace pensare alla bio come una sorta di, più che come biglietto da visita virtuale, come ad una sorta di presentazione a una festa. Tu arrivi a una festa e ti devi presentare in quei pochi secondi che hai a disposizione. O qualcuno ti presenta, come lo faresti? Come vorresti che qualcuno ti presentasse ad una festa? Questa è una festa in cui magari potresti trovare persone con cui instaurare collaborazioni. Ecco, pensiamo al Biz Brunch, quindi senza pensare a una festa a scopo semplicemente di intrattenimento. Il Biz Brunch è un momento fisico in cui ogni anno ci incontriamo e molte di voi non si sono mai viste per la prima volta. E qualcuno di voi vi introduce ad un'altra persona o voi vi presentate a qualcun altro. La vostra bio potrebbe tranquillamente essere l'espressione virtuale di questa presentazione. Quindi, dimmi chi sei, io che cosa ho scritto qui? Online Business Strategist. Poi parliamo anche di questa distinzione tra username, scusatemi, nome utente e nome. Anche qui, grandi articoloni, comizi su come utilizzare sta roba, ma ragazze, cioè, cerchiamo di semplificare. Va da sé che la parte, diciamo così, modificabile, quella dove io ho scritto Online Business Strategist, è la parte che ci vogliamo, dove possiamo essere più creative. Senza che però questa creatività diventi un'arma a doppio taglio. Quindi io ho scritto effettivamente, qui io potrei scrivere, no? Per esempio, se fossi una fotografa di matrimoni, creatrice di memorie per la vita. Ma che cacchio vuol dire, ragazze? Cioè, dobbiamo essere anche, ricordiamoci dei sette secondi, dobbiamo essere immediate. Fotografa di matrimoni, punto. Poi ci giochiamo tutte le nostre parolone, i nostri tagline. Però la bio di Instagram, secondo me, non è il luogo per essere particolarmente creative. È il luogo per essere chiare, chiare, ok? Quindi, Ceci, io tra l'altro ho ridotto il mio nome perché tanto c'è già il mio nome sopra, non c'è bisogno di ripeterlo ed essere ridondante. Online Business Strategist, punto, ok? Chi sono? Dimmi che cosa hai creato, se rilevante. Non necessariamente abbiamo creato degli altri account, ma qualcuna di noi ha degli account per i propri prodotti o per il proprio account di servizi, diciamo così. Io ho Impact Girl Tribe e Omnama, li metto nella bio perché? Perché sono particolarmente forti come profili. Magari se li avessi appena creati, non so se li metterei nella mia bio. Perché? Perché come Online Business Strategist, Omnama.it Impact Girl Tribe, quando li vai a vedere, ti danno subito l'idea del fatto che non sto qui a pettinare i capelli alle bambole e che non sono qui a insegnarti qualcosa che io non ho messo in pratica. L'ho messo in pratica per i miei profili e lo posso condividere anche con te. E poi, dimmi per chi sei. Vedete che io qua non ho messo per chi sono. Lo vedremo, questo è un elemento che io ho messo, ho omesso. E il motivo è molto semplice. Come già vi condividevo forse nella primissima Beats Live dedicata ad Instagram, il mio Instagram si è trasformato nel tempo e la mia audience è tuttora un'audience un pochino inquinata perché ho cambiato nicchia nel tempo. E cosa significa? Che io non ho soltanto donne che mi seguono, no? Come invece è il mondo di Impact Girl Tribe. Quindi è vero che uno dice, vabbè, ma mettilo nella bio che così, come dire, depuri questa audience. Ma ho deciso, anche per una questione di spazio, di omettere quell'aspetto e di dare invece più rilevanza a che cosa puoi aspettarti da me, ok? Digital Marketing, Time Management, Mindset. Questi sono i tre aspetti, ce ne sono molti altri, ma di solito rientrano in questi tre cassetti. Bene o male, Digital Marketing ha un bel cassettone grande, quindi mi consente di parlare di molte cose, Time Management pure e Mindset pure. Questi sono i tre aspetti che ti puoi aspettare da questo account, né più né meno. E poi, dimmi come entrare nel tuo Beats Mondo, ma non piazzarmi un link buttato lì, tipo Linktree, oppure CeciliaStradao.com. Ma, no, guardate che cosa ho scritto, scegli un corso free. E poi tu vai, tra l'altro poi vi farò vedere la SmartPage, ma fondamentalmente io ti sto dando un'indicazione precisa. Quindi, potremmo anche scrivere conosciamoci, oppure scopri di più. Però io amo essere molto specifica. È ovvio che poi quando tu clicchi su quel link, che vi farò vedere tra poco, non è che c'è solo il corso free, c'è tutto quello che noi facciamo. Però io ti sto dicendo, vai in quel link e vai a sbirciare i corsi free, perché sono naturalmente il nostro fiore all'occhiello. D'accordo? Cerchiamo di essere più specifiche possibile. Adesso vi faccio vedere un altro account che io adoro, che indomino sempre, perché seguo da quando è nata Sofi. ma cerchiamo di essere specifiche sui problemi che andiamo a risolvere, o le tematiche che andiamo a trattare. Quindi, ultimamente molti di voi mi hanno condiviso anche pagine web o email che scrivete, con espressioni come riconnettersi col centro, riscoprire la propria essenza, passare al livello superiore. Questi termini, che tra l'altro io ho usato nei primissimi anni della mia storia con Omnama, sono termini che io adesso ho parcheggiato e non userò mai più, a prescindere dal fatto che sono corretti semanticamente parlando. Ma invece di dire, ti aiuto a riconnetterti con il tuo centro, e io dico, beh, ma centro è una parola soggettiva, ma che cosa vuol dire? E in sette secondi, se io mi chiedo cosa vuol dire, mi hai già perso, potreste piuttosto scrivere, ti aiuto a gestire le emozioni quando sei sotto stress. Che cosa vuol dire gestire le emozioni quando sei sotto stress? Trovare il tuo centro, tra l'altro quando sei sotto stress. Capite come cambia completamente, no? il tono in questo senso. Questo è un altro esempio. Big Little Feelings è un account decisamente più grande dei nostri, perché vedete che ha 2.9 milioni di followers, ed è un account che io spesso riporto come esempio a cui ispirarsi a chi di voi, a prescindere dalla nicchia, che può essere diversa da questa, è a corto di idee per i propri contenuti. Così da non riproporre sempre solo i miei account, ma anche account che io effettivamente seguo, e quindi che mi hanno colpito per un motivo preciso. Vedete che tra l'altro loro non mettono nemmeno il loro nome. Loro sono due figure, ciascuna delle quali ha un nome e cognome, ma non hanno utilizzato la bio per scrivere chi sono e chi non sono, hanno scritto toddler experts. Quindi dimmi chi sei, questo è, questo sono. D'accordo? E hanno messo tra l'altro la keyword in quella parte lì modificabile, più anche in realtà i Big Little Feelings, la parte del Big Little Feelings è modificabile. Ma vedremo poi perché secondo me non ha molto senso modificarla troppe volte. Invece la parte in cui mettiamo il nostro, potremmo mettere il nostro nome dove io ho messo Cici Online Business Strategist, perché ho messo Online Business Strategist? Perché quella è una keyword. E Instagram farà vedere alle persone che sono interessate all'aspetto del business digitale con molta più probabilità il mio account in quel modo, piuttosto che se io avessi scritto Cecilia Sardeo. Ok? E basta, perché chi è Cecilia Sardeo? Chi sono loro? Sono degli esperti, delle esperte di bambini di una certa età. E poi, tra l'altro, loro l'hanno distribuita in maniera un po' diversa, ma non cambia nulla. Questo per dire che non deve essere, questa lista che vedete, non deve essere una prigione, deve essere un riferimento. Dimmi cosa hai creato? Loro in realtà hanno creato Big Little Feelings, quindi se probabilmente, senza dubbio, hanno degli account personali che io però non conosco, e sicuramente in quegli account personali hanno messo che hanno creato Big Little Feelings, così come io ho scritto dietro le quinte di Omnama e Impact Girl Tribe. Ma qui comunque hanno messo cosa hanno creato? Hanno scritto online courses for parents, corsi online per genitori di bambini da 1 a 6 anni. Più specifico di così, ragazze, cioè io becco l'account e dico, questo account può parlare effettivamente a me. Dimmi per chi sei, lo hanno detto in quella stessa frase, quindi ti hanno detto che cosa fanno, quindi come possono aiutarti, e anche chi sono in una stessa frase. Loro hanno aggiunto, tra l'altro Real Tips for Real Toddler, eccetera, purtroppo quella parte non è leggibile, e io questo screenshot ve l'ho messo, perché è vero che io stessa sono, come dire, colpevole di questo, quando Instagram ti dà lo spazio disponibile, uno lo usa il più possibile. Però cerchiamo di fare in modo che, prima di quel more, che non è detto che qualcuno clicchi, adesso in italiano sarà, guarda di più, non lo so, però prima di quello, ci sia tutto quello che effettivamente è davvero importante nella nostra bio. Perché non è detto che qualcuno lo clicchi, tanto che io questo screenshot ve l'ho fatto, accorgendomi dopo di non aver cliccato su more, e di non avervi fatto vedere l'intera versione. Però, in effetti, loro qua già ti dicono tutto. Quello che io avrei fatto diversamente, nel loro caso, è invece di buttare lì, Link 3, Big Little Feelings, avrei messo la Call to Action che vi dicevo prima. Quindi inizia da qui, oppure scegli un corso free, oppure scopri l'ultima masterclass, non so, qualsiasi cosa poi sia la Call to Action più rilevante per noi. Ok? Altro esempio è quello di Impact Girl Tribe, vi faccio esempi completamente diversi tra loro, proprio per farvi capire che, appunto, non è una prigione, ma è un riferimento. Qui, per esempio, noi tra l'altro con Impact Girl Tribe abbiamo una bella sfida, che probabilmente qualcuna di voi, insomma, conosce perché l'ha vissuta in prima persona, ma non esisteva Impact Girl come account su Instagram, era preso, era stato preso. E quindi noi che cosa abbiamo scritto? Impact Girl Tribe, anche perché volevamo dare l'idea di community. Però poi nel nome, cosa abbiamo messo? Impact Girl by Beats Academy.it. Quindi dovevamo, in una stessa bio, parlare di Impact Girl, in una stessa bio che aveva un nome diverso da quello del nostro podcast, e cioè Impact Girl Tribe, dovevamo mettere il nome del nostro podcast, e dovevamo mettere anche il nome di Beats Academy. E abbiamo deciso di giocarci lo spazio in questo modo. E poi, quindi, chi sei? Impact Girl by Beats Academy.it. Ok? Che cosa hai creato? E anche chi sei, perché la stessa frase risponde a entrambe le domande. Il business podcast per imprenditrici digitali, vedete che qui ho messo per chi sei, qui l'abbiamo scritto per chi siamo, per imprenditrici digitali. Abbiamo messo fondato da Cecilia Sardeo, per lo stesso motivo che vi dicevo prima, perché se uno poi va a vedere il mio profilo, capisce chi c'è dietro, e che non è soltanto un account senza faccia, ok? E poi, dimmi cosa fare, scegli il tuo corso free, ok? L'aspetto del come puoi aiutarmi qui è carente. Quindi vi faccio proprio vedere in real time le sfide reali, non è che poi uno riesce a metterceli tutti. È vero anche che la bio si può modificare nel tempo, e andrebbe anche aggiornata nel tempo, senza che diventi un'ossessione, perché non è così importante, ok? L'importante è che immediatamente io capisca di che cosa stiamo parlando. Va da sé che se io so che c'è un business podcast per imprenditrici, già quello mi dice come possiamo aiutarti. E poi c'è scegli il corso free, quindi ti dà l'idea dei corsi free, quindi comunque c'è sempre implicitamente la risposta a tutte queste domande. curiosità ragazze, vi sentite che la vostra bio riempie tutti questi spazi? Ok, devo rifarla Fede, ottimo. Alcune cose da rivedere, la mia bio è pessima, questa ragazze è la formula, chiamiamola, che non potete sbagliare, è la formula che non potete sbagliare. riguardo a quale link mettere in bio, qualcuno chiedeva se mettere il freebie oppure il corso, dipende, se in quel momento stai promuovendo il corso, piazzaci il corso, ma vi farò vedere la smart page che in realtà vi risolve a monte questo problema, perché senza dover cambiare praticamente niente nella vostra bio, vi permette proprio di mettere in evidenza delle cose piuttosto che altre, quindi il freebie piuttosto che il corso a pagamento.